Ecco a voi l'ammiraglia della collezione borse Mares, la Backpack Pro, sopra i 130 litri di capacità con un peso inferiore ai 5 kg. Allora, la Backpack Pro è un trolley e qui, prendo questa cerniera, trovate la maniglia telescopica dove trova alloggiamento anche il biglietto da visita per identificare la borsa. Le ruote di questa Backpack sono molto distanti tra di loro per aumentare la stabilità della borsa durante il trasporto. All'interno di questa zip trovano alloggiamento gli spallacci. Questa borsa può essere pertanto utilizzata anche come zaino. Questa borsa è realizzata con materiali particolari, molto leggeri. Come potete vedere la superficie principale è realizzata in un materiale che non contiene PVC. Poi abbiamo nella parte frontale un materiale con disegno a nido d'ape che troviamo sia sulla parte frontale che sulla parte laterale ed è comune a tutte le borse della linea. Nella parte posteriore, nella zona bassa, invece troviamo del materiale molto resistente all'abrasione, molto utile soprattutto durante il trasporto negli aeroporti. Questi due longueroni che vediamo qui, oltre a dare maggiore rigidità strutturale alla borsa stessa, la proteggono durante il trasporto sui nastri trasportatori. La borsa è dotata di maniglie per il trasporto. Nella parte superiore abbiamo una maniglia realizzata in materiale molto morbido, mentre nella parte sottostante troviamo una maniglia rigida e che permette il trasporto della borsa, ma allo stesso tempo permette, garantisce la massima stabilità quando la borsa è in posizione verticale. La Backpack Pro è dotata di cinghie di compressione che permettono di mantenere compatta la borsa anche con molta attrezzatura all'interno. La borsa è realizzata con 5 tasche, 1, 2, 3, 4 e 5. Tutte le cerniere sono di alta qualità, inoltre la cerniera della tasca principale è dotata di cursori ad anello per il facile utilizzo. Le due tasche laterali sono destinate all'alloggiamento delle pinne. La geometria della tasca si sviluppa verso l'interno della borsa. Questo permette di avere un profilo compatto senza tasche sporgenti. Questa griglia, in fondo la tasca portapinne, permette di scaricare l'acqua. Anche le due tasche frontali hanno un profilo compatto. Questa tasca, molto ampia, permette l'alloggiamento di tutto ciò che non deve andare a contatto con l'attrezzatura umida. Questa tasca, oltre ad avere le stesse caratteristiche della precedente, contiene al suo interno la borsa Care. Al suo interno troviamo delle praticissime tasche con cerniera ed elasticizzate. Lo specchietto all'interno è rimuovibile e può essere usato anche come segnalazione. All'interno un praticissimo gancio in metallo permette di appendere la borsa dove volete. La tasca principale è dotata di una cerniera con apertura totale. L'interno della borsa è realizzato in materiale impermeabile chiaro per facilitare l'identificazione del contenuto. All'interno due cinghie regolabili permettono di bloccare l'attrezzatura durante il trasporto. All'interno trovate stampata una lista di controllo. A cosa serve questa lista? Al momento in cui preparate la borsa non dimenticherete nulla.